Dichiarazione che... bah, quella di Lady Gaga. Poi vedete come la musica ritorna sempre, no? Sono tutti temi che sono tutti incatenati insieme. E Lady Gaga, Germano, noi ti volem bene perché io penso che tu sei diversa da Madonna, hai portato qualcosa ancora di più nel panorama musicale, cioè hai una voce pazzesca e ti vorrei giudicare per quello che fai. E non per quello che sei e per quello che dici. E questo è un problema che purtroppo l'essere umano non riesce a discendere. Mi ricollego anche al The French Dispatch perché noi siamo così, saltiamo di pala in frasca, abbiamo 3000 appunto salti pindarici nella testa. E in The French Dispatch appunto c'era questa storia, come dicevo prima, di Benicio del Toro, che lui era un grandissimo pittore e che però era troppo aggressivo e violento. Però il film ti mette in risalto questo dubbio amletico. Apprezzare il personaggio, cioè l'arte che fa, o non apprezzarlo perché per forza di cose siamo indotti a pensare a lui in maniera diversa quando sappiamo che effettivamente è un assassino. Profondità, curiosità, eronia. La curiosità è il sale dell'intelligenza. Ecco, non sto dicendo che sia un assassino, ma sto dicendo che purtroppo non si può, secondo me, avere questa faccia tosta di influenzare per forza le correnti e le masse. Ecco, secondo me il grande artista è quello che non parla mai. Cioè quello che fa parlare di sé attraverso le opere che fa. Quello, cazzo, è un grande artista. Ma se uno deve andare a tutte le convention, a tutte, diciamo, le sponsorizzazioni e buttare sempre la politica in mezzo, è lì, secondo me, c'è qualcosa che non va. Perché significa che o per vendere il disco e per vendere appunto un film è necessario per forza ormai abbeverarsi di questi temi di attualità per non essere fighi ma far vedere che si è impegnati. Perché ora l'artista impegnato è ovviamente il non plus ultra di tutto. Ma io ritengo invece che far parlare più i prodotti rispetto ad andare a seguire delle correnti è ancora qualcosa che può premiare di più. Perché si è fatta appunto questa polemica che poi è stata cavalcata anche dai Mami Skin su quanto l'Italia stia ancora indietro per quanto riguarda i diritti LGBTQ+. E basta, ragazzi. Cioè, io non ne posso più. Perché una persona bravissima nel suo lavoro che però ha la presunzione, o gli è stato detto di dirlo, io non lo so, eh, e ha la presunzione di dire che noi siamo indietro quando nel suo paese ancora stanno accadendo delle discriminazioni incredibili e il presidente non sta dando, diciamo, tutta questa, non sta mostrando di essere così buonista, ecco, così super partes su alcune cose fa veramente ridere perché non si può avere, diciamo, questa faccia tosta di criticare per sempre e comunque tutto quello che si fa in Italia. Poi parleremo del Didi Allezzana anche perché questo ci dà modo anche di vedere come è stato percepito questo tema anche dalla gente e come viene invece raccontato e narrato dagli artisti e dai giornali. Perché i giornali lo raccontano in un modo, gli artisti in un altro, la gente invece lo percepisce in un altro ancora. Facciamo riferimento appunto all'esultanza che c'è stata da parte dei leghisti al Parlamento e al Senato per quanto riguarda appunto la non approvazione del Didi Allezzana. Ecco, io in questo caso non mi sento per forza di cosa di giudicare in maniera negativa questa esultanza o appunto questa non approvazione del Didi Allezzana. Perché secondo me, ragazzi, il discorso è talmente complesso che voi non ve ne potete fare un'idea. Cioè, questa è come la vedo io, magari sbaglio, però dietro ci sono delle dinamiche che poi alla fine non ti fanno essere favorevole o contrario, ma ti fanno capire come questi disegni di legge, queste, diciamo, questa attenzione, questa sensibilità verso le, diciamo, non chiamiamole minoranze, però verso le differenze, boh, ok, in realtà poi alla fine non sono delle cose che vogliono, cioè non si va a fare questo perché si vuole migliorare effettivamente la qualità delle vite di tutti, ma l'intento è sempre quello, poi non so se è qualcosa voluto o qualcosa che purtroppo nella società cresce per forza e alla fine sfocia in questo modo, ed è qualcosa appunto che mette sempre in contrasto tutti quanti e alla fine però è indotto dai media o dalle istituzioni e per forza di cose tutti quanti devono obbedire a questo buonismo e a questo moralismo imperante e dilagante. io non mi sento di dare la ragione a una parte o dall'altra perché da che mondo è mondo l'essere umano è andato sempre in conflitto, ha sempre odiato, è stato sempre diverso e quindi però questa diversità, questo contrasto, questo conflitto noi non lo dobbiamo prendere come una cosa negativa, secondo me la dobbiamo prendere come una cosa positiva perché entrare in conflitto poi alla fine significa anche avere rispetto dell'altra persona e può anche darsi che ci sia anche una sorta di innamoramento verso quella persona e entrare in conflitto significa anche mettere sul piatto quello che sono io e quello che sei te e alla fine io quando mi confronterò con te sarò una persona migliore ma se invece deve essere l'artista, la società, l'istituzione, a impormi che io quella persona la devo per forza rispettare, amare, secondo me sarà peggio perché o sei, o tu società ti dedichi a educare tutti quanti benissimo e quindi non lasci nessuno indietro e allora questa cosa utopica si può realizzare ma se invece tu non fai il possibile per educare tutti quanti e poi pretendi che tutti amino tutti incondizionatamente non è secondo me fattibile e sto sempre più pensando che purtroppo è sempre quella diciamo opportunismo che si vuole mettere in gioco per farsi conoscere, per vendere, per strumentalizzare politicamente tutto quanto perché ritornando al DDL ZAN io ho una mia idea secondo me perché Renzi e company comunque si all'hanno fatto cascare alla fine? perché in realtà sono dei specchietti per le allodole che servono semplicemente per o farti votare o farti credere che diciamo c'è questa sensibilità nel prossimo e nella diversità perché adesso vende perché adesso fa figo ma in realtà non so quanto ci sia veramente di genuino in queste correnti e in questa voglia di cambiamento imperante per quella e poi alla fine gira che te rigira io sto notando che si ritorna sempre a un discorso democristiano e passando un attimo alla politica sto notando come si stia ritornando un pochino al passato ossia con queste teorie queste correnti in cui la gente rimane chiusa in queste opinioni e queste fazioni mettono uno contro l'altro ecco io odio questo modo di pensare io odio questa dinamica che si sta mettendo in atto anche con il grill pass purtroppo sto notando che i difensori di una corrente ossia i pro vax per la maggior parte dei casi mettono in risalto tutte le cose negative dei no vax mettono in risalto che la libertà di opinione in questo caso non dovrebbe esistere perché si va a ledere la salute degli altri no secondo me non si può ragionare così come dall'altra parte i no vax fanno sempre leva sul fatto che c'è sempre qualcuno che ci controlla sul fatto che bisogna avere appunto bisogna cavalcare anche l'onda della diciamo di questa dittatura sanitaria per scombussolare tutto quanto e rovesciare il sistema anche questo secondo me fa parte di questo gioco in cui chi diciamo strumentalizza questa corrente alla fine ci guadagna quindi la verità come al solito sta nel mezzo e bisognerebbe dare più spazio al confronto e alla alla libertà di espressione in tutti e due liti ma questo non sta non sta accadendo purtroppo non sta accadendo anzi le istituzioni con il il super green pass stanno esacerbando ancora di più questa questo contrasto e quindi limitare una persona cioè limitare una percentuale minima di persone che non ha fatto il vaccino che poi ancora non si è capito se effettivamente è più sicuro tamponarsi tutti i giorni o aver fatto un vaccino che dura sei o nove mesi metterli uno contro l'altro mi sembra come quando vivevamo il tempo cioè vivevamo i nostri genitori vivevano il tempo fra i terroristi rossi e neri che non potevano uscire da casa perché l'idea appunto dei rossi era quella giusta per loro e l'idea dei neri era giusta per gli altri quindi alla fine si creava sto conflitto assurdo in cui la violenza era purtroppo all'ordine del giorno e esacerbare così tanto diciamo delle persone a tal punto da farle solamente lavorare e non fargli avere un'interazione sociale perché hanno liberamente deciso di non vaccinarsi perché lo possono fare perché se fosse tutto obbligatorio ragazzi se tutto fosse obbligatorio come sta accadendo adesso diciamo che non staremmo vivendo una società democratica quindi andrebbe poi a collidere con l'idea dell'Europa stessa e questo fa veramente ridere e come appunto avevo iniziato il discorso dicendo che si sta avverando quello che dicevano i complottisti beh pensateci in realtà qualcosa si sta avverando perché la previsione sul fatto che i non vaccinati fossero messi appunto da parte rinchiusi tra virgolette sta accadendo e quindi andare a sbeffeggiare da una parte e dall'altra e anche da parte dei novax per i vax le opinioni degli altri non è una cosa che che secondo me alla fine funziona e che ci farà vivere tutti bene anzi potrebbe far scoppiare delle sommosse e quindi ragazzi non so più che pensare su questo frangente è qualcosa che si sta evolvendo talmente in fretta che anche i cittadini hanno difficoltà a recepire bene tutte queste informazioni e questo cambio di registro e quindi poi si va a sfociare al fatto di volere per forza evadere la gente adesso vuole andare su Marte vuole evadere no cazzo si rimane qua ci si confronta e si cerca di interpretare al meglio la società che stiamo vivendo per migliorarla e per liberarla da tutti questi preconcetti da tutti questi falsi moralismi da tutti questi falsi perbenismi perché alla fine siamo mossi secondo me da purtroppo moralismi e anche il fatto di dover per forza educare l'altro anche in questi imponendolo è questo appunto questa accezione questa propensione che abbiamo al dover per forza mettere le persone in categorie noi siamo diciamo la generazione delle categorie più di tutti e quindi riflettiamo riflettiamo su questo perché poi alla fine c'è il rischio che se io impongo all'altro di fare per forza una cosa quell'altro poi potrebbe anche rigettare quello che si sta imponendo di fare e potrebbe reagire anche peggio e faccio un esempio magari che ne so se al lavoro vi viene per forza imposto di rispettare tutti quanti di appunto dare la possibilità e le opportunità a tutti American Dream e poi alla fine però vedi delle situazioni in cui molti diciamo dipendenti o molti appunto esponenti poi magari impazziscono e vanno a rimarcare la loro superiorità rispetto al dipendente agli altri in altri modi e quindi poi alla fine è un giochino diciamo subdolo e come esseri umani secondo me dobbiamo anche rispettare il nostro modo appunto di essere umani sembra una frase da cioccolatino e che magari non significa niente a sentirla così velocemente ma io invece vi invito a riflettere su questa cosa qua vi ringraziamo di aver seguito questo infausto podcast e come tutte le sere abbiamo provato a capirci qualcosa di più su questi temi che ci attorniano ma alla fine ne usciamo sempre con le ossa più rotte e sempre più confusi alla prossima ragazzi e il mantra che utilizziamo è sempre lo stesso per questi giorni libertà libertà libertà